Il Campobasso chiede spazio a Giulianova per la conquista della C, giallorossi più tranquilli dopo i tagli alla griglia payout, ma Alfadini è gara vera. I giallorossi rispetto a mercoledì tengono in panca Berlafante e Massetta con dentro Furcini e D'Antonio e out Tipaldi infortunato, mentre Cristian Cicconi, terzo allenatore, il luogo degli squalificati primo e secondo, guida lo stesso undici della domenica, vincente contro il Tolentino con le riprese di Danilo, di Gian Domenico e il montaggio di Francesco Paolo Salviani. Andiamo subito al settimo minuto dove c'è una bella iniziativa di Cogliati che viene intercettato prima da Ferrini e poi contrato di pugno da Mora. Poi sale il Cattidra Giulianova e lo fa con il suo numero 9, al quindicesimo Tedone per Cipriani, da questo al centro per Paudice che guadagna un angolo, due minuti dopo ancora Paudice a colpo sicuro su cross di Tedone, Raccichini mette in mostra un bel colpo di Rene per impedire la capitolazione. Al ventesimo c'è un buco di Dalmazzi, Paudici non si aspetta il liscio, Raccichini è bravo, è lesto ad anticipare l'attaccante. Rosso-Blu di nuovo in pressione al ventottesimo, Fabriani si beve quattro uomini, entra in zona a lato corto dell'area, crossa bene e teso. Ferrini spazza provvidenzialmente, nulla di più fino alla fine di frazione di tempo. Inizio ripresa, subito dentro Rossetti per il campo basso fuori di Domenico Antonio e quindi in avanti. Cogliati a sinistra, Rossetti al centro e Vitali al suo fianco. Parte forte quindi il campo basso in sette minuti per Cogliati. Ci sono tre opportunità per cercare la rete. Subito al terzo con Rossetti che appoggia per il numero nove, che rasa tutta l'area senza trovare compagni per l'impatto. Respinta a mano aperta di Mora al quinto sul numero nove, poi all'undicesimo ancora Cogliati impegna sul proprio fianco Mora. Al diciassettesimo, dai e dai, è proprio il neo entrato Rossetti che riesce ad andare in gol sebbene con l'impercettibile ma decisiva deviazione di un giallorosso che mette fuori causa Moro. 0-1 e vantaggio del campo basso. Tre minuti dopo sono gli stessi molisani che provano il colpo del KO con la schiacciata di bontà che testa i riflessi di Mora. C'è ancora tempo per il campo basso per cercare il colpo del KO, dicevamo prima che rinvenga il Giulianova e ci prova Candelori al trentatresimo con un tiro che è respinto da Mora, riprende lo stesso Rossetti e il pallone che va oltre il legno traverso. Dicevamo di una serie di cambi di Bitetto che manda in campo Barlafante, Massetti, Cuchi, Galli ed Antonelli. E' il momento di orgoglio giallorosso che tiene in ansia gli avversari con il suo opice al terzo dei sei di recupero quando Massetti da calcio da fermo coglie il palo pieno e poi la sfortuna vuole che la sfera caramboli sulla schiena e poi oltre il fondo. Giulianova vicinissimo al pari ma alla fine il campo basso fa bottino pieno. Il Giulianova esce con la testa non alta, altissima.